Sì, diciamo questo, che noi abbiamo anche, come avete sentito, messo un accento importante sui giovani agricoltori. C'è una percentuale importante a disposizione dei giovani agricoltori, che ha una duplice valenza. Da una parte quella di consentire ai giovani di avvicinarsi sempre di più verso questo settore, che appunto ha un'età media un pochino più alta, però dall'altro lato consente anche a chi lavora da qualche anno di poter usufruire di quelli che sono i vantaggi tecnologici che possano in qualche modo consentire loro di fare più attenzione.